Ragazzi qui ormai non se ne esce, cioè la situazione è arrivata ad un punto tale in cui gli sviluppatori qualsiasi cosa faranno male Sto parlando ovviamente della polemica che è scaturita in questo periodo legata a Stellar Blade, a Star Wars Outlaws Outlaws, non lo so pronunciare oddio schifo, a Fable, comunque a diversi giochi che rappresentano dei personaggi e delle protagoniste femminili Cosa è successo? Vabbè, long story short, la protagonista di Stellar Blade, Eve, ne abbiamo già parlato abbondantemente C'è anche un video dedicato che potete recuperare qui sul canale, ma è stata fortemente sessualizzata Nel senso è un personaggio sul quale è stato creato tutto un marketing intorno proprio basandosi sull'aspetto estremamente attraente È una ragazza bellissima, tra l'altro una ragazza vera perché è stata presa una modella reale per ricreare il suo aspetto fisico È stata pompata diciamo nei punti giusti, nel senso mondo schiena si vede che ha ricevuto un po' una pompatina all'interno del videogioco Ma il punto focale non è tanto il fatto che sia una bellissima ragazza, più il fatto che sia sempre presentata in abiti decisamente sensuali Quindi o particolarmente succinti oppure tutine in latex che lasciano intravedere e immaginare ben poco Lasciano intravedere tanto, immaginare poco, ecco E questo ha causato una grossissima polemica all'interno delle community Perché c'è chi dice che è giustissima la libertà di espressione dello sviluppatore Giusto che possa rappresentare anche un personaggio femminile o maschile o qualsiasi cosa insomma Voglia ricreare come meglio crede Ma dall'altra parte c'è chi dice che comunque questo porterà sempre di più a un'idealizzazione della figura femminile E che tanti ragazzi si aspetteranno di trovare sempre una ragazza fatta in quel modo Io la reputo un'esagerazione proprio perché secondo me basta avere due neuroni Per capire che le ragazze non sono tutte fatte così E che non è che ti devi aspettare di avere necessariamente una ragazza così Oppure basta rimani insomma singola vita Cioè nel senso ci sono, esistono per carità Probabilmente se uno si fa un giro in palestra ne trova anche un tot Però ecco diciamo che non è così facile trovare delle fisionomie di questo tipo Ma a prescindere cioè io sono per il chi se ne frega Nel senso vuoi rappresentare una ragazza così Perché? Non lo so nel tuo universo Questo è cyber perché poi alla fine non si tratta neanche di esseri umani Non stiamo parlando di esseri umani Stiamo parlando di degli androidi praticamente O almeno da quel poco che si è capito dalla trama principale di Stellar Blade Non sono degli esseri umani Sono degli esseri creati artificialmente Quindi io penso che ci possa anche essere Cioè ci possa stare che se crei un essere artificiale Lo crei con delle fattezze che siano rasenti la perfezione Che rasenti la perfezione appunto Vabbè c'è stata anche la polemica legata a diversi personaggi maschili Proprio per il fatto che una parte della community giustamente dice Ok però perché facciamo sto ragionamento solo sui personaggi femminili Quando ci sono tanti personaggi maschili Io ad esempio ho tirato fuori l'esempio di Kratos Di Leon, di Resident Evil, Clive, di Final Fantasy 16 Insomma prendete un personaggio maschile, un protagonista Dante, anche Dante pare che ho sessualizzato Si parla spesso anche del fondo schiena di Big Boss O non solo di quello, si specialmente di quello di Big Boss Del terzo capitolo di Metal Gear Solid 3 Poi vabbè io l'ho recuperato da poco Diciamo che è stato un bellissimo spettacolo vedere il fondo schiena di Big Boss Però oh mio Dio non lo puoi dire, apri di cielo Siamo arrivati a un punto in cui anch'io Se esprimo un apprezzamento nei confronti di un personaggio maschile Mi viene dato su, cioè più di una volta mi è stato fatto notare nei commenti Ah però Kuro hai fatto dei commenti Cioè perché magari una volta mi è capitato di creare un personaggio su Dragon's Dogma 2 Ho creato un figo pazzesco, veramente bellissimo E mi sono lasciata andare a commenti del tipo Mio Dio quanto è figo, che bello Che sono stata bellissima, cioè sono stata fortissima a crearlo così figo Ieri quando ho detto che volevo creare il turbofregno Non sapevo in che cosa vi stavo imbattendo E da lì c'è stato un po' di polemica nei commenti C'è ogni tanto qualcuno che mi ha fatto notare mi ha detto Eh però Kuro, se qualcuno avesse, se un uomo avesse creato un personaggio femminile Avesse detto le stesse cose che hai detto tu su quel personaggio maschile Oh mio Dio apri di cielo Io ragazzi, sarà nel senso Io non avrei nemmeno detto nulla di questo tipo a nessun ragazzo Che poteva fare commenti su un personaggio fettizio Cioè si parla di personaggi di fantasia Si parla di sonaggi ideali che noi possiamo ricreare Che poi non necessariamente rappresentano il nostro ideale di bellezza E semplicemente magari in quel momento ci andava di creare un personaggio simile Perché poi quando creiamo i personaggi nel character creation Quasi sempre li facciamo fighi? Quasi sempre È raro che si facciano brutti Magari ogni tanto qualcuno si Capita che facciano anche del, non so, degli sgorbietti Succede, accade Però in generale quando vai, che ne so, andate su Black Desert Sono tutte delle ficone incredibili Quasi tutti femminili Quasi tutti personaggi femminili Poi vabbè lì c'è la classe che ti locca il sesso Quindi nel senso se vuoi fare una determinata classe Devi necessariamente scegliere un personaggio femminile o maschile Alcuni sono stati riproposti in entrambi i sessi Però in generale c'è il gender lock Quindi già lì c'è un discorso diverso Però in generale sono quasi tutti personaggi femminili E gli sviluppatori stessi fanno uscire quasi solo personaggi femminili Ma come è successo su Genshin? Dove ci sono state grossissime polemiche Ogni volta che usciva un personaggio maschile Oh, ma lì è la Cina principalmente Sono loro che fanno sempre casino Perché molti dicono Ma perché non fanno uscire anche dei personaggi maschili Con delle fattezze un po' diverse Che non siano il solito fanboy Il solito ragazzino magari O il ragazzino appunto con delle fattezze Proprio da Shota, no? Il classico Shota degli anime Perché non vendono Perché evidentemente Perché la Cina fa un casino incredibile Ogni volta che ne esce uno diverso come stile Già rompono le scatole Se escono dei personaggi maschili Addirittura Ricordo c'era stato un po' di tempo fa Su Azure Promilia Mi pare si chiamasse Azure Promilia Una specie di Genshin-like Che uscirà prossimamente Dove addirittura gli sviluppatori hanno detto Che avrebbero fatto uscire solo personaggi femminili Solo femmine Perché anche lì la community Ha rotto le scatole Dicendo noi personaggi maschili Non li vogliamo Vogliamo solo le femmine nei gacha Io sono sconvolta ragazzi Adesso vabbè Torniamo a parlare della polemica Perché sto un attimo divagando Ma appunto La contrapposizione è tra Stellar Blade Dove c'è appunto Eve Che è questo personaggio bellissimo Incredibile Super sessualizzato Perché lo è Cioè è innegabile che sia Stra sexy Lo è E dall'altra parte Abbiamo invece Alcuni protagonisti Alcune protagoniste femminili Ad esempio come quella Che si è intravista Nel trailer di Fable Che non è particolarmente avvenente Mentre la modella lo era Ci hanno proprio fatto vedere Le foto della modella Che è stata presa Per fare il modello Della protagonista Di Fable Che è una bellissima ragazza E effettivamente È stata resa più bruttina Nel videogioco Che poi più bruttina La bellezza è una cosa Abbastanza soggettiva Io dico sempre che Capita a volte Che magari Non so Vedi una persona Magari non ti ispira Non ti dice niente di che Fisicamente Poi ci parli Magari ti fa ridere Fa una battuta Ed improvvisamente Diventa bellissima O bellissimo Cioè a me è capitato Innumerevoli volte Veramente tante volte E quindi Può succedere un po' La stessa cosa Anche nel videogioco Dove magari C'è un personaggio Che non è particolarmente avvenente Però poi ti piace di carattere E allora diventa Improvvisamente bello A me è successa questa cosa Con MJ Nell'ultimo Spider-Man In Spider-Man 2 Proprio quando è uscita È arrivata Io lì per lì Mi ricordo proprio Che l'ho guardata E ho detto Però non mi piace Moltissimo questa MJ Proprio perché Vengo dai fumetti Di Spider-Man Da altri videogiochi Di Spider-Man Dai film di Spider-Man Dove MJ È sempre bellissima E quindi Sai te l'aspetti un po' La gnocca Della classe Insomma la gnocca di turno Dove In contrapposizione Invece Peter Parker È il nerd Un po' sfigatino Invece Che non sa Approciare bene Le ragazze Quindi è proprio La contrapposizione Di questi due personaggi Dove uno Magari È un po' più bruttino Lei è super figa E si è sempre Nel senso Nel mio immaginario Spider-Man ed MJ Peter Parker ed MJ Sono così Perché veniamo comunque Da un retaggio Di fumetti Film Videogiochi Dove MJ è sempre stata così Quindi io vedendola Lì per lì Ho proprio detto Non mi piace molto Questa MJ Però poi Che cosa è successo Che giocando Andando avanti Nel gioco Continuando Insomma Utilizzarla Perché poi Nel gioco Te la fa utilizzare Un sacco MJ La usi tantissimo Tra l'altro è straforte Cioè io spesso Mi sono chiesta Per quale motivo Esiste Spider-Man Cioè perché C'è Peter Parker Quando MJ arriva Con una pistoletta Praticamente shot A tutti Fortissima Era anche caratterialmente Estremamente simpatica Aveva Secondo me Una bella verve Era proprio un personaggio Bello Bello Ben costruito Bello sfaccettato Anche dal punto di vista Proprio caratteriale Cosa che normalmente Non è accaduta Con altre MJ Che erano effettivamente Solo belle E magari non avevano Molta personalità A questa Hanno dato tanta personalità Rendendola anche Un po' bruttina Ma Il punto è Per quale motivo Non si può creare Un personaggio femminile Che sia esteticamente gradevole E anche Aggiungere Magari una forte personalità Mi viene il dubbio Che Nell'ideale Di molti Non sia possibile Associare queste due cose Che se una ragazza È effettivamente Bella Come Eve Di Stellar Blade Non possa anche avere Magari una forte personalità Come quella Che aveva MJ In Spider-Man 2 Secondo me le due cose Possono anche combaciare È molto Creare degli stereotipi Fare la tipa Super gnocca Super figa Che però Poi Magari È un'oca Nel senso che non Vai a Provare ad approfondire Il personaggio E non c'è profondità E d'altra parte Per creare un personaggio Femminile interessante Sembra quasi Che sia necessario Renderla bruttina Per quale motivo questo? Perché devi distogliere L'attenzione Dal suo corpo? Non lo so Questo è Questo è un interrogativo Che mi sono posta Un dubbio che mi è venuto Proprio In questi giorni Riflettendo Su questa situazione E mi faceva piacere Condividerlo con voi Perché Sarei curiosa di sapere Che cosa ne pensate Qual è la vostra opinione In merito Cioè Secondo voi Per quale motivo Vengono rappresentati Tutti i personaggi O in un modo O in un altro Come se non potessero essere Belli e interessanti E approfonditi Per esserlo Debbano essere Necessariamente imbruttiti Cosa che appunto È successa al personaggio Alla protagonista di Fable Che è stata effettivamente Imbruttita A me viene da dire I cavoli Cioè il mio pensiero Quando l'ho visto È stata proprio Mi se ne frega Cioè secondo me Non è motivo Di polemica Se un personaggio È molto bello O un personaggio È un po' più brutto È davvero così importante Non lo so A me è venuto molto Whatever Però vabbè Io sono molto Per il vivi e lascia vivere Come immagino Sapete se mi seguite da un po' Quindi di sicuro Cioè io un videogioco Che mi piace Lo gioco a prescindere Dal fatto che Il protagonista O la protagonista Mi piacciono esteticamente Se sono anche belli esteticamente Ok Bello È un bel vedere Se non lo sono A me è impazienza Cioè ci devi giocare Col personaggio Non è che ci devi fare altro Non è che ci devi avere Una storia d'amore In real life Quindi boh Io sono molto per il Chi se ne frega Cioè se uno sviluppatore Vuole creare un personaggio Bello Fallo Se lo vuoi creare Più brutto Perché per te Appunto è una caratteristica Fondamentale Per dare forse anche più realismo Non so A quel personaggio Ok fallo Whatever Però ripeto So di far parte Probabilmente di una grande minoranza Perché invece ho notato Che si sono creati Degli enormi schieramenti Anche per quanto riguarda Star Wars Outer House Che dicevo prima Perdonate la mia Terribile pronuncia Però anche lì È stata presa una modella Per creare Una delle protagoniste Ed è stata Ibruttita La protagonista è stata Un pochino più imbruttita Che sia per dovere Di ambientazione Dato che comunque Sta rappresentando Una tipa abbastanza Senza scrupoli Che può Cioè che fa fuori tutti Non gliene frega niente Di nessuno Se non di se stessa Quindi Ci può stare forse Rappresentarla così D'altro canto Torno A rifarvi la domanda Che vi ho fatto prima Ovvero Perché un personaggio Femminile Magari anche gradevole Nell'aspetto Non può comunque Incarnare queste cose Non può essere una villain Perché no Non può essere bella E strunza Secondo me sì Può esserlo Tranquillamente Quindi Non Non trovo Ecco Non trovo necessario Né abbellire particolarmente I personaggi in game Come non trovo necessario Imbruttirli Ma ripeto È una scelta Totale Che deve avere per me Lo sviluppatore Se l'art director Gli sviluppatori insieme Decidono di fare Un personaggio così Per me va bene Così Io non creerei Polemica Inutile E sterile Che poi Anche qui Ci sarebbe Da aprire una parentesi Perché in realtà Grossa parte Della Virgolette Virgolette Community Che si sta lamentando Per Stella Albreed E al contrario Si sta lamentando Per Fable Non sono nemmeno persone Che giocano ai videogiochi È così È fattuale Come è stato al tempo Per Hogwarts Legacy Grossissima parte Della polemica Creata dietro Hogwarts Legacy Veniva da persone Che non avrebbero Comunque giocato al gioco Veniva da persone Che fanno parte Non di community Di gaming E quindi È questo Che mi causa Sempre un po' Di dubbi Di domande Perché dico Ma per quale motivo Persone che nemmeno Si interessano a quel medium Quindi Adesso in questo caso Parliamo del gaming Del videogioco Sentono la necessità Di creare Questi spartiacque Queste divisioni Queste polemiche Dietro a giochi Che nemmeno Avrebbero giocato Dietro a giochi Che nemmeno Sarebbero risultati Interessanti Probabilmente per loro Perché poi Stellar Blade È abbastanza particolare Come tipologia di gioco Secondo me Tutto questo scalpore Comunque che si è creato Questo marketing Dietro alla Sexaggine di Eve Ha dato sicuramente Molto risalto al gioco Perché l'ha fatto conoscere In tutto il mondo Adesso se uno dice Stellar Blade Tu subito sai Di che cosa sta parlando Ovvio se mastichi Un po' di gaming Nel senso Se ti informi Se sei una persona Che va a ricercare online Le ultime notizie Riguardo ai videogiochi Sai subito che cos'è Probabilmente non ci fosse stato Dietro questo marketing Aggressivo sul personaggio Di Eve Nessuno ne avrebbe parlato In questo senso Ne avremmo comunque parlato Perché probabilmente È un bel gioco E ci metto probabilmente Sì Secondo me sì Perché comunque Avendo provato la demo Io il gameplay L'ho trovato molto valido Cioè sembra bello il combat Anche la trama dietro Sembra essere abbastanza interessante Ci metto un abbastanza Perché vabbè Abbiamo visto poco Abbiamo giocato un paio d'ore Però comunque Ambientazione bella Animazioni belle Graficamente il gioco è bello Il combat c'è Cioè se ne sarebbe probabilmente Comunque parlato Anche se Eve Non fosse stata così sexy Il fatto che lei lo fosse Però ne ha fatto parlare All'ennesima potenza Quindi probabilmente Mi viene da dire Un marketing estremamente riuscito Cioè bravi 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 Cioè volevate farne parlare Ci siete riusciti Detto ciò La polemica Su Stellar Blade Principalmente scaturita Da chi a Stellar Blade Non ci giocherà mai Non perché magari Non giocherà a Stellar Blade Ma perché probabilmente Non ha neanche mai giocato Un videogioco in vita sua Nel senso Ho visto molte persone Lamentarsi Della sessualizzazione di Eve Ma persone totalmente Al di fuori Della community di gaming Come ho visto persone Lamentarsi Della bruttificazione Come si dice Aglification Della protagonista di Fable Di anche Della protagonista Femminile Di Star Wars Outlaws Anche lì Sono persone che probabilmente Non l'avrebbero comunque giocato Non lo giocheranno Quindi Ormai Veramente Davvero bisogna Siamo arrivati al punto in cui La polemica Deve essere fine a se stessa Cioè Basta davvero che se ne parli? Che punto ormai è questo? Ormai qualsiasi cosa Diventa importante Solo nel momento In cui Crea divisioni Crea spaccature Perché non Possiamo più Goderci Videogiochi Medium Videoludico Come un passatempo Come qualcosa di bello Come Necessariamente deve Sempre esserci dietro Un messaggio forte Dietro ad ogni videogioco Che secondo me no Ci sono anche videogiochi Cioè prendete Candy Crush Candy Crush è uno dei giochi Più giocati al mondo E ragazzi Che che Ne dica la gente È un videogioco Gamer potranno anche dire No non è un videogioco Perché il videogioco deve avere Questo questo e questo Ragazzi Ha tutto quello che un videogioco Dovrebbe avere Perché se diciamo che Candy Crush Non è un videogioco Allora non possiamo nemmeno dire Che Non so Puzzle Bubble È un videogioco Tetris È un videogioco Sono videogiochi Lo sono assolutamente Non è che siccome ci gioca La vostra zia Di 60 anni A Candy Crush Allora vuol dire che Non è un videogioco Perché non potete ammettere Che vostra zia Sia una gamer Lo è Forse lei non lo ammetterà Ma lo è Se ci gioca E ci gioca anche Spesso Quindi Ecco il punto mio è Non tutti i videogiochi Secondo me Devono Comunque Trasmettere un messaggio Forte Impattante Sociale Politico Alcuni possono essere Anche solo Un passatempo Potevano essere Cioè Stellar Blade Poteva essere Creato Anche senza un personaggio Così sexy Assolutamente sì Questo però Ha fatto sì che Vi parlassero Di Eve Probabilmente L'hanno fatto anche per questo Mica scemi Quindi ecco Questa era la mia Riflessione Di oggi Sono curiosa di sapere La vostra In merito Dato che Io sono giovanissimi Che mi interrogo Su questo Su questa Tematica E ho deciso Solo adesso Di parlarne Perché sì Perché ormai Ho formato il mio pensiero In merito Quindi mi andava Di condividerlo con voi Detto ciò Io ho notato Che moltissimi di voi Non sono iscritti Al mio canale Ogni volta che Vedo le Analitiche Vedo che Più del 50% Di voi Non sono iscritti Come mai Raga Raga Quella campanellina Lì Ascrizione Campanellina Dai che comunque Si parla sempre Di cose che interessano A voi Quanto a me Alla fine Siamo videogiocatori Quindi mi fa piacere Anche confrontarmi Con voi Su queste cose E dato che comunque YouTube Non sempre Pinge alcune tipologie Di video Specialmente Per persone Magari come me Che utilizzano YouTube Comunque per fare Solo alcuni tipi Di contenuti Più virati Sulle news O sull'opinionismo Ecco Magari Campanellina Grazie Così Non vi perdete I video Dato che Insomma Ci sono sempre Degli update E parliamo sempre Di cose Che secondo me Vi interessano Spero che sia così Detto ciò Vi ringrazio per aver visto il video Fatemi sapere la vostra Assolutamente Per quanto riguarda Questa Inutile Sterile Polemica E vi mando Un bacio A presto Per quanto riguarda